Ciao! Se stai cercando come avere nella tua azienda o attività una fibra ottica dedicata simmetrica, sei sul video giusto. La mia azienda dal 2009 si occupa di fornire le migliori connettività internet in tutta Italia, tra cui fibre ottiche a progetto simmetriche dedicate. Innanzitutto, che cos'è una fibra ottica a progetto simmetrica dedicata? È un progetto che viene fatto che ti permette di avere uno scavo dedicato in fibra ottica che va dalla centrale telefonica più vicino a te fino a dentro la tua azienda, con uno scavo unico su cui avrai accesso solamente tu. Quindi avrai una fibra ottica simmetrica dedicata solamente per la tua azienda, sulla quale nessun altro ne potrà usufruire. Quali sono i vantaggi di questa connettività molto particolare? Ovviamente si tratta di una connettività top di gamma, cioè non esistono connettività migliori di questa. Perché? Perché ovviamente questo tipo di fibra ottica ti permette di avere una fibra simmetrica. Mettiamo 100 barra 100 nominale che poi si traduce in una banda di 90 barra 90 sia in up che in down garantita. Come riusciamo a fare questo? Beh innanzitutto dal 2009 siamo dei broker telefonici e lavoriamo per i clienti e non per le compagnie telefoniche. Abbiamo a disposizione tutte le compagnie telefoniche italiane presenti sul mercato ed andremo a chiedere un preventivo ad ogni singola compagnia per portare la fibra ottica simmetrica dedicata migliore sul mercato. Faremo uno studio di fattibilità quindi andremo a vedere quanto dista la tua attività dalla centrale telefonica più vicina, andremo a valutare i tipi di territori che devono essere attraversati, andremo a fare un progetto dedicato per la tua attività e ti diremo quale sarà il costo mensile da sostenere per lo scavo dedicato e la connettività mensile. Ti dico subito che un progetto del genere parte da un minimo di 500 euro al mese a salire. Questo prezzo può cambiare in base al territorio che dobbiamo attraversare e anche dalla distanza dalla tua attività alla centrale telefonica più vicina. Quello che dovrai fare per avere un progetto è semplicemente contattarci al link qui sotto, invece una mail, ti manderemo un modulo molto semplice da compilare con i tuoi dati e nel giro di 48 ore ti manderemo un preventivo per avere una fibra ottica a progetto dedicata per la tua attività. Abbiamo portato la fibra ottica simmetrica dedicata a tantissime attività e gli abbiamo permesso veramente di risolvere qualunque problema di banda e di navigabilità in azienda. Con una connessione del genere qualunque problema di connettività tu possa avere adesso nella tua azienda saranno finiti per sempre. Possiamo fare qualunque tipo di taglio di connettività simmetrica da una 50 barra 50 in down e in up a una 100 barra 100 a una 200 barra 200 e a salire fino addirittura a una 1000 mega simmetrica sempre con 90 per cento di banda minima garantita. Perché affidarsi a broker per la telefonia e consulenza per avere un preventivo per questo tipo di connettività? Beh innanzitutto esistiamo dal 2009 e da quel tempo lavoriamo per i clienti e non per le compagnie telefoniche. In secondo punto abbiamo recensioni a 5 stelle ovunque nel web puoi andare a vedere tu stesso. Terzo punto siamo partner ufficiale della ConfCommercio. Questo ti dà una certezza di avere un'azienda che lavora per le società e per le attività e per i proprietari di partita IVA. Quindi contattaci nel link qui sotto, inviasci una tua mail, ti faremo avere un modulo a riempire e dentro 48 ore ti manderemo il miglior preventivo per avere la migliore fibra ottica dedicata a simmetrica presente sul mercato italiano. Se non l'avessi ancora fatto ti invito a iscriverti qui sotto nel nostro canale YouTube e rimanere aggiornato su tutte le migliori offerte internet e su tutte le novità del mondo della telefonia. Ci puoi trovare anche sul nostro sito brokerperlatelefonia.it, su Facebook e su Instagram. Grazie dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!